Lo ha preannunciato Fra Francesco nel nostro sommario, allora diamo un affettuoso benvenuto, un caloroso saluto ad un amico, Attilio Fontana, cantante, attore, compositore. Ciao Attilio, benvenuto al sabato del convento. Grazie a voi, scusate la miss un po' casalinga così, ma ormai nelle dirette si usa anche un po' essere se stessi in questo senso, quindi mi trovate un po' casalingo oggi. Ciao Attilio, buon pomeriggio, come stai? Bene, bene, grazie, insomma è un piacere essere ospite in questa bella compagnia. Con noi in studio c'è un altro amico, Luigi Ciavarella, che tu conosci molto bene. Ciao maestro. Ciao Luigi. Collega, bravissimo. Troppo buono. San Giovannese si dice, giusto? Sì, sì. Allora Attilio, partiamo subito partendo da Actor Day, un'opera che tu hai scritto, composto, creato con tua sorella Maria Grazia ed altri collaboratori, altri amici. Ci racconti le sensazioni e le emozioni nel creare prima l'opera e poi in un secondo momento anche interpretare il protagonista, Padre Pio da Pietrelcina? Beh, provo a non dilungarmi troppo, comunque è un viaggio che viene da lontano, solo per la scrittura ci abbiamo messo diversi anni, tre o quattro anni, proprio per la delicatezza dell'argomento e del personaggio, perché andava trattato come merita, nel senso che è stato un personaggio importante per i fedeli, ma anche importante nella storia, quindi era giusto dare, come dire, un'obiettività al personaggio e raccontare le caratteristiche più importanti di questa vita comunque particolare che ha attraversato e vissuto. Quindi siamo stati molto attenti, devo dire che un primo aiuto importante ce l'ha dato Padre Luciano Lotti, che in quanto storico di Padre Pio, diciamo, mi ha aiutato a collocare nelle giuste caselle gli eventi della vita più corrispondenti possibili. La cosa bella di quest'opera è che chi vede l'opera e conosce la storia di Padre Pio ritrova tutte le tappe della sua vita e chi invece non lo conosce se ne innamora perché è uno spettacolo molto emozionante ed emozionale, quindi si va al di là di questo frate che si legge nei libri a volte dove sembra essere una costante soltanto la preghiera, ma si entra nell'azione della sua vita e si conclude con la costruzione dell'ospedale, insomma il miracolo tangibile di tutta questa vita attraversata tra tormenti, sofferenza, ma anche una grande disponibilità nei confronti dell'altro, nella forma più cristiana che io intendo, insomma essere a disposizione nei confronti dell'altro essere umano. Attilio vogliamo a questo punto… Ah sì, scusami, prima di che ci parli dell'interpretazione vogliamo vederti all'opera in questa brevissima clip. Ok. A San Giù Che emozione, è sempre bello riascoltare queste canzoni, di vedere quest'opera anche attraverso delle immagini. Attilio, è la prima volta che ti sei avvicinato alla figura di Padre Pio attraverso appunto quest'opera che ti ha visto coinvolto anche come compositore oltre che interprete. Ma in realtà mia madre era molto devota e come tutte le persone che hanno a che fare con Padre Pio, con San Pio aveva un miracolo in famiglia che riguardava il fratello. Parliamo della seconda guerra mondiale, quindi dobbiamo andare un po' a ritroso. Ma io ero adolescente, quindi i suoi viaggi a San Giovanni Rotondo per me erano sempre un po' come dire, ero in una età, in una pulsione diversa, diciamo, sapevo la storia, mi facevo raccontare, ricevevo dei racconti a distanza ma non ero così coinvolto. E anche questo fu il mio timore quando mi fu proposto di scrivere quest'opera, era un po' quello di maneggiare un personaggio che poteva sembrare di voler lucrare su questo personaggio, ecco questa era la cosa che mi dispiaceva di più e quindi ho voluto cominciare ad avvicinarmi. Una volta arrivato giù e sentendo i racconti, sono onesto, sui libri non ho trovato questo, come dire, questo piacere che ho trovato invece nei racconti delle persone che lo hanno incontrato, conosciuto. Una volta arrivato a San Giovanni Rotondo ho proprio capito esattamente il tipo di umanità che abbiamo tutti ereditato da lui perché poi ha catturato anche me, insomma, padre Pio. Quindi lì ho capito veramente quello che è stato il suo passaggio di testimone a livello cristiano, sicuramente cattolico, di religione ma anche umano, ecco che è il territorio che a me appassiona sempre di più. La visione dell'altro è lasciare l'eredità, un senso di comunità, di aiutarsi di essere insieme. Questo mi ha affascinato e mi ha rapito, mi hanno rapito i racconti della sua storia e lì poi diventa irreversibile il viaggio. Oltre a conoscere di più la figura di padre Pio, com'è stato entrare proprio nel personaggio? Perché un attore deve anche in qualche modo cercare di entrare nella psicologia del personaggio che interpreta. Beh, io sono molto appassionato di recitazione da sempre, di cinematografia e negli ultimi anni ho continuato e continuo a studiare con un coach che lavora con degli attori spagnoli, americani, quindi mi appassiona molto. E quindi il metodo, quello che chiamano il metodo un po' americano, è quello che chiede di entrare nelle emozioni del personaggio. Quindi è stato un viaggio molto intenso perché entrare nella vita di padre Pio è qualcosa di molto, molto forte, soprattutto su certe emozioni e anche su alcune attinenze con la mia di vita. A volte devi cercare delle emozioni dentro te stesso che corrispondono a quelle del personaggio. Quindi è un viaggio scomodo, sono sincero, non è un viaggio comodo perché è un viaggio che richiede di entrare a volte nel dolore, nella sofferenza, in qualcosa che non maneggiamo con piacere. Ma per me che sono un po' masochista e un po' mi piace il mio lavoro, ogni volta è un viaggio straordinario. Per esempio c'è una scena dove lui perde la madre, inevitabilmente è qualcosa che mi è capitato un po' anche a me nella vita e quindi in quel momento c'è un'assonanza che è molto, molto forte emotivamente. Però è anche un momento molto bello perché trovo una connessione in un'emozione che sono sicuro che è molto simile. Quindi è stato un bel viaggio. Luigi Ciavarella ha partecipato all'ultima edizione, speriamo che possa riprendere al più presto. Luigi, che cosa ti porti di quell'esperienza? Di tutto buon pomeriggio a voi, grazie per avermi ospitato. Ciao maestro, è bello vederti qui in questo led world gigantografia. Questi occhi che escono da fuori è meraviglioso. E' un musical che io ho avuto il piacere, l'onore e il privilegio anche da San Giovannese far parte di questa realtà, di questo musical che non è un musical come tutti gli altri. Io la considero, lui stesso Attilio lo diceva a noi quando ci faceva dei laboratori, è un esperienza di vita e di crescita, sì artisticamente ok, ma prima di tutto della persona e anche dal punto di vista spirituale perché è capitato a Napoli che al Maschio Angioino ci siamo esibiti e ci ha visto una persona che non credeva, diceva di essere ateo e improvvisamente ha detto questo musical mi ha fatto capire che cosa significa Dio attraverso la figura di questo santo e sto tremando perché mi emoziona ogni volta parlare di nostro padre Pio con il quale ho un legame particolare. Quindi è un'esperienza di vita meravigliosa. Ti stiamo vedendo anche ritratto in queste foto. Era il 2017 a San Giovanni Rotondo quando avete portato in scena l'Actor Day, una delle tante volte ecco. Certo, certo. Qui è nel ruolo proprio di, un ruolo che mi ha affidato il maestro, un po' ecco difficile da portare avanti però l'ho fatto con molto molto coraggio che è quello del capopopolo, cioè difendere il santo da tutte le invidie, da tutte le cattiverie che gli dicevano contro. Quindi per me è stata veramente un'esperienza che spero si ripeterà, sicuramente si ripeterà. Siamo certi. Sì, si ripeterà. Luigi, Fra Francesco ti ha presentato come attore, cantante, insegnante di recitazione, direttore artistico della scuola Le Piume del Vento. Come sta andando la ripresa post pandemia, post lockdown, dopo il periodo è stato difficile per tutti gli artisti. Sì, 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 sì. Diciamo sta andando bene, dai. Ci stiamo riprendendo pian piano, i ragazzi stanno ritornando perché questa è una realtà che sta crescendo sempre di più grazie anche a mia madre che lei mi sostiene sempre. Ovunque vado io ho mia madre che mi sostiene, però è bello così perché diciamo che è anche lei la mia spinta per fare meglio. È una realtà che sta crescendo, come ti dicevo, sempre di più. e ci ha accolto anche positivamente la regione Puglia, faremo dei bei progetti con la regione Puglia, con il teatro pubblico pugliese. Stiamo programmando adesso una nuova produzione, una commedia che ritorno diciamo nel mio habitat naturale, dopo aver fatto il performer, il cantante, adesso ritorno nel mio habitat naturale che è la commedia, il genere della commedia che svelo, questa è un'anticipazione, Miseria e Nobiltà, quindi faremo Miseria e Nobiltà qui a San Giovanni. Tra l'altro anche Antonio è un appassionato di teatro. E vi svelo un segreto, Antonio, perché Le Piume del Vento nasce dalla vecchia associazione Gli Amici del Teatro e Antonio è stato parte integrante degli Amici del Teatro e mi ha visto, si può dire, sì, mi ha visto proprio crescere, quindi sono cresciuto in ottime mani. Allora, i tempi televisivi sono un po' diversi da quelli teatrali, quindi rimanete con noi. Attilio, resti in collegamento Skype con noi, ci fermiamo qualche minuto, restituiamo la linea alla regia e poi ancora insieme con i nostri ospiti.